Ciao, sono Andrea, ho 12 anni, vengo da Roma e il mio sogno è diventare un clown dottore. Invece altri sogni, il sogno per esempio che ho in comune con molti miei amici è che il razzismo venga completamente eliminato e che non ci siano più barriere tra persone di diverse etnie. Quando sono un pochino più grande vorrei andare con la mia parrocchia per stare un pochino, magari qualche giorno, ad aiutare persone disabili in giro per Roma. Dobbiamo essere noi forti per riuscire a realizzare il nostro sogno anche con le condizioni che abbiamo tuttora.